Il 4 e 5 febbraio 2010 si è tenuto il consueto appuntamento annuale organizzato dall'Università di Macerata per gli studenti degli istituti di istruzione superiore, al fine di orientare alla scelta consapevole degli studi universitari. È stata un'opportunità per sentirsi studente universitario per un giorno e per immergersi nella realtà universitaria maceratese. Nell'area stand sono stati allestiti dei punti informativi dedicati ai servizi che l'Ateneo eroga, ad esempio per migliorare la qualità degli studi o per offrire possibilità di interscambio con altri paesi. I docenti, infine, hanno incontrato gli studenti in delle sessioni di presentazione delle singole facoltà per illustrare, attraverso una lezione dimostrativa, la qualità dell'offerta didattica dell'Ateneo di Macerata.